Dopo il caso della pensionata, 75 anni, finita all'ospedale dopo essere svenuta al supermercato, perché malnutrita, ecco che all'ombra degli hotel della fiera, nascosti dal traffico che scorre rapido in via Friburgo, figure senza volto frugano nei cassonetti in fondo a via del Pescarotto. Chi sono? Visto qua, neri, persone neri, tutti questi aperti e cercano. Sì, settimana scorso era qua, tutto l'immondizia? Sì, sì. Di solito qui si vede spazzatura, praticamente, sotto dietro ai cassonetti, praticamente, quindi come se qualcuno scavasse, che poi cerchi da mangiare oltre cose, non lo so. Secondo me possono cercare qualunque cosa, possono anche cercare capi di vestiario, per esempio. Quelli che ha visto, chi sono? Sicuramente africano. Nigeriani? Nigeriani, sì. Ha visto qua? Ha visto qua la parte di qua? Gheggio di forri così, non so che cosa tira dentro di... Quella, sì. Perché che cosa tira non lo so. Non molti anni fa il Pescarotto era tristemente famoso per la presenza di un paio di grossisti nigeriani della droga. Oggi invece la roba che cercano questi sbandati è altra. Fino a qualche giorno fa le immondizie dei cassonetti di via del Pescarotto finivano sparpagliate sparpagliate in giro. Si sono mossi gli albergatori dell'Ascoma per pretendere dall'APS una ripulitura e una messa in ordine dell'isola ecologica. Ma i cercatori di non si sa bene cosa nei cassonetti probabilmente continueranno a esserci.